I pescatori di Orbetello e quelli della zona del Mugello sono già sul piede di guerra per quella che potrebbe essere definita una concorrenza sleale, ma la preoccupazione si è allargata anche a chi ha cuore la biodiversità e gli equilibri dell'ecosistema. Sì, perché l'aumento esponenziale in Toscana della presenza dei cormorani rischia di trasformarsi in un problema ambientale oltre che economico. Criticità che si sta registrando anche nella Valle del Serchio e nelle aree umide della provincia di Lucca, dove questi volatili acquatici sono sempre più numerosi. Dopo diverse sollecitazioni da parte dei pescatori e delle associazioni presenti sul territorio, ho deciso di porre l'attenzione della regione toscana a un problema molto importante che è quello della presenza massiccia di cormorani, che mettono in pericolo sia gli allevamenti ma le attività legate alla pesca nei torrenti e nei laghi della Valle del Serchio e della provincia di Lucca. Un modo per sollecitare la regione è di intervenire immediatamente. La regione toscana aveva approvato nel 2018 il piano di controllo del cormorano, conclusosi nel 2021, di cui la richiesta presentata da Puppa attraverso un'interrogazione alla Giunta di dare seguito a quell'intervento al fine di arginare i potenziali danni all'ecosistema acquatico regionale, alla biodiversità e alla sopravvivenza di specie ittiche locali.